La politica in apertura, maggioranza in fibrillazione dopo la nomina ad assessore di Michele Marone. A breve verrà ufficializzata la costituzione di un polo civico all'interno del centro-destra e a farne parte i sei consiglieri che avevano raccomandato in un documento indirizzato a Toma di orientarsi verso uno degli eletti per la nomina del quinto assessore indicazione che il governatore ha ignorato. Ma sentiamo Pasquale Di Bello. Sono una serie di nubi fosche e minacciose quelle che si stanno addensando sulla regione molise e il barometro politico segna decisamente tempesta. All'indomani della nomina dell'avvocato Michele Marone ad assessore regionale in quota Lega monta la fronda all'interno del centro-destra. Quello compiuto dal governatore Toma viene eletto come un vero e proprio atto di sfida in modo particolare dal gruppo di consiglieri che solo qualche giorno fa avevano raccomandato al presidente della regione di procedere alla scelta del quinto assessore tra gli eletti in consiglio regionale. In tal senso è stato sottoscritto e diramato un documento da parte di sei consiglieri di maggioranza, Salvatore Micone, Gianluca Cefaratti, Andrea Di Lucente, Aida Romagnolo, Filomena Calenda e Armandino De Gidio. L'evidenza palmare dei fatti dimostra che l'indicazione pervenuta a Toma non solo non è stata accolta ma è stata ribaltata nel corso di poche ore. Il presidente dal canto suo ha ribadito un concetto, il Molise ha bisogno di un amministratore non di un politico e io mi occupo di amministrare la regione. Questo per dire a chiare lettere che il tempo dei minuetti e delle quadriglie politiche è finito. Tuttavia lo schema generale si complica poiché la nomina di Marone non è stata gradita dai consiglieri aventiniani, niente contro la persona ma viene contestato il metodo seguito per la nomina. Gli accordi sostengono erano altri, ovvero bisognava attendere il giro di boa della legislatura per rimettere mano al quadro complessivo degli incarichi istituzionali. A questo punto però il dato è tratto e bisogna riorganizzare le fila. La mossa che ha lo studio ma sulla quale c'è ormai un accordo definito è quella di costituire un polo civico composto dai sei consiglieri firmatari del documento indirizzato a Toma e non accolto da quest'ultimo. Un polo civico dicono che si ponga come argine allo strapotere di due sole forze politiche nazionali. Il riferimento è chiaro ed è rivolto alla Lega e a Forza Italia. In particolare gli equilibri andranno a rimodellarsi proprio sulla rappresentanza ingiunta dei berlusconiani, poiché in quota azzurra sono da conteggiare gli assessori Cavaliere e Di Baggio con pagine alla quale il costituendo polo civico aggiunge anche il presidente Toma, considerato anche egli in quota forzista. Potrebbe essere proprio questa la mossa del cavallo che ha in serbo lo stesso Toma per far quadrare in autunno i conti. Uno scarto di lato che lo porterebbe a ridimensionare il peso di Forza Italia ingiunta, sacrificando uno dei due tra Cavaliere e Di Baggio. Intanto si avvicina il primo banco di prova, il consiglio monotematico di lunedì prossimo, dedicato al tema del centro Covid da realizzare a Larino. Sarà questa l'occasione per una prima conta sul tema e cosa nota Toma è scettico. Da una stima ufficiosa trapelata a titolo di indiscrezione parrebbe che per costruire il centro Covid a Larino occorrano oltre 30 milioni di euro, ma per saperne di più bisognerà aspettare lunedì prossimo. Da parte di Toma è mancato il rispetto istituzionale nei nostri confronti. Questo in sintesi il commento di Filomena Calenda, la nomina dell'assessore regionale Michele Marrone, nonostante il veto da parte dei sei consiglieri regionali. La Calenda, oltre a ipotizzare la nascita di un polo moderato, come abbiamo visto, non esclude un ritorno anticipato alle urne. Sergio Di Vincenzo l'ha intervistata. Filomena Calenda, in sei avevate chiesto al Presidente della Regione Toma di non nominare il quinto assessore, ma poi le cose sono andate diversamente. Sì, in effetti i sei consiglieri regionali hanno chiesto, con un documento firmato e sottoscritto da questi sei consiglieri, hanno chiesto al Governatore Toma di non nominare il quinto assessore esterno in attesa delle nuove posizioni che si dovevano ritrovare in seno al Consiglio regionale nel mese di ottobre-novembre. Ma ahimè, questi consiglieri mi sembra che abbiano subito davvero un grave torto, perché non hanno avuto il rispetto istituzionale che, a mio parere, doveva essere dato. A questo punto quali sono i possibili scenari, almeno sulla carta, la maggioranza potrebbe non esserci più? Ma io credo che una maggioranza debba esistere, si chiama maggioranza quando c'è condivisione di progetti, condivisione di idee, ma ahimè, tutto questo in questa legislatura davvero è mera utopia. E io davvero ogni giorno mi trovo a cospetto di cittadini che mi chiedono in quale mondo viviamo, perché probabilmente in Consiglio regionale siamo attenti a pensare alle nostre portrone, alle nostre beghe interne, ma i problemi dei cittadini non vengono portati all'attenzione del Consiglio e quindi nessuna modifica a quella che è la vita davvero dei cittadini che meriteranno più rispetto. E' ipotizzabile un ritorno alle urne? Ma vede, è ipotizzabile perché io credo che nel momento in cui se i consiglieri regionali firmano un documento comunque di rispetto verso questi consiglieri, ma soprattutto pongono all'attenzione del Governatore Toma che qualcosa non sta andando così come si decide nelle riunioni di maggioranza, io penso che questa possibilità possa esserci. Personalmente, e voglio parlare sempre nel rispetto della mia persona, ma soprattutto noi abbiamo creato questa unione di sei consiglieri che comunque parteciperanno ad un percorso che ci vedrà magari anche in un polo di moderati, insomma dobbiamo condividere quelle che saranno le idee progettuali perché nessuno di noi vuole andare a casa, ce lo dicono in tanti, nessuno di noi, perché chi è arrivato in Consiglio regionale personalmente ci sono arrivata per poter dare un aiuto e portare le stanze delle persone, però se necessario io credo che davvero è il caso di ritornare a casa. Ma c'è anche da registrare il durissimo intervento del capogruppo del PD in Consiglio regionale Michela Fanelli dopo la nomina di Michele Marone, anche la nuova giunta a trazione leghista è illegittima, ha detto, per violazione del principio della parità di genere e impugneremo gli atti. Sentiamo Tonino Danese. Salvini è arrivato in Molise, ha ordinato e Toma ha eseguito piegandosi alla volontà della Lega Nord. Duro, durissimo il commento della capogruppo del PD in Consiglio regionale Michela Fanelli alla nomina di Michele Marone come quinto assessore esterno. Secondo l'esponente Dem, la decisione del governatore è uno schiaffo a chi era stato leale con lui anche durante la sessione di bilancio sulla vicenda surroga e il riferimento ai sei consiglieri di maggioranza che hanno firmato il documento e che gli ricordavano gli impegni assunti di fermarsi e condividere le scelte. Fanelli, alla luce degli ultimi eventi, parla di ex maggioranza per Toma ricordando una recente indagine che lo colloca a penultimo tra i presidenti di regione nel gradimento popolare. Peggio di Attila, dove passa Toma, resta solo il deserto politico, soprattutto per chi continua a dargli credito. È il tagliente giudizio di Michela Fanelli. Fa poi gli auguri di buon lavoro a Marone, ma il fair play finisce qui perché la consigliera del PD si arma di nuovo di ascia e va giù pesante. Anche Michele Marone sottolinea come il suo predecessore tutta la giunta sono assessori illegittimi perché ancora una volta non sono state rispettate le quote rosa. Oltre la considerazione dovuta al genere femminile, infatti, esiste l'obbligo giuridico di avere almeno una donna ingiunta, nuovamente disatteso dal nostro presidente. L'ennesimo gesto di disprezzo di Toma, evidenzia Fanelli, contro il quale faremo ricorso e, insieme a tutte le donne che hanno condotto finora questa lotta di principio e di valore, impugneremo i provvedimenti di nomina e porteremo avanti tutte le battaglie politiche per mandare a casa questa ormai non maggioranza. Ci opporremo alla peggiore amministrazione regionale che il Molise abbia mai avuto. Infine la stilettata della capogruppo del PD. Per il nuovo assessore conclude sarà davvero arduo fare peggio di quanto fatto fin qui della Lega Nord per il Molise, cioè nulla. Cambiamo argomento, vediamo l'aggiornamento sulla situazione coronavirus in regione in base all'ultimo bollettino diramato dall'Asrem. Nessun positivo nelle ultime 24 ore su 305 tamponi processati, 3 le persone guarite, 1 di Isernia e 2 di Belmonte del Sannio. Uno dei pazienti ricoverati a terapia intensiva è stato spostato a malattie infettive. I positivi attualmente sono 117. Adesso vediamo la mappa dei contagi. 86 a Campobasso, 11 a Termoli, 4 a Cerce Maggiore, Porto Cannone e poi 1 a Belmonte, Baranello, Campolieto, Castellino del Biferno, Gambatesa, Macchia Godena, Montaquila, Oratino, Poggio Sannita, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis e Vinchiaturo. 118 sindaci del Molise con una nota congiunta sostengono le ragioni per cui il Vietri di Larino è il candidato ideale ad essere il centro di Covid di riferimento regionale. Cresce quindi il movimento trasversale che si è creato intorno alla proposta. Sentiamo. Sindaci del Molise Compatti e quasi al completo hanno sottoscritto una nota a sostegno della proposta di realizzare un centro Covid per le malattie infettive al Vietri di Larino. 118 le firme in calcio al documento, senza distinzione di provincia, senza distinzione di colore politico, con cui si spiega il perché, quella avanzata dal commissario ad acta Angelo Giustini, sia una buona proposta. Nella nota vengono ricostruite tutte le tappe che hanno portato alla scelta dai passaggi politici e amministrativi, ricordando quello anche in Consiglio regionale, all'urgenza di individuare una struttura per il trattamento dei pazienti Covid slegata da quelli no Covid, come sta succedendo in tutte le altre regioni d'Italia. Gli stessi primari del Cardarelli avevano sollevato le criticità nel trattare nella stessa struttura pazienti Covid e no Covid, una scelta, quella del Vietri, sostenuta anche dalla diocesi di Termoli Larino e trasversalmente da numerosi rappresentanti delle istituzioni, anche regionali. Nella nota dei sindaci cappeggiati da Pino Puchetti si ricordano poi le caratteristiche dell'edificio che farebbero del Vietri il candidato ideale. Una struttura moderna di recente costruzione con elevati standard di sicurezza, con una favorevole posizione geografica a pochi chilometri dalla 14, con una superficie di oltre 3.000 metri quadrati, di cui solo un terzo utilizzati per posto letto di RSA e riabilitazione, per la presenza poi di circa 150 posti letto dotati di ossigeno, terapia e aspiratori predisposti, per la presenza di sei sale operatori, di cui una funzionante, senza dimenticare la camera iperbarica che per anni è stata il riferimento per il centro-sud. Insomma, il Vietri, secondo i sindaci, è il candidato ideale, restando alle linee di indirizzo proposte proprio dal Ministero della Salute. Una conferenza stampa per presentare la manifestazione di protesta che si terrà il 23 giugno a Campobasso presso il Consiglio regionale è stata organizzata davanti al Vietri di Larino, dal SOA e dai comitati in seno al problema e il cittadino c'è. La manifestazione sarà a sostegno della sanità pubblica e della proposta di Larino come centro-covid, per il quale i comitati hanno quantificato in 10 milioni di euro e il costo di riattivazione dei vari reparti. Un ospedale che sarebbe a servizio di tutto il Molise, punto di riferimento interregionale per le malattie infettive. Hanno riaperto tutti, tranne i centri socioeducativi. Le persone con disabilità della nostra regione sono costrette a restare a casa. La denuncia del presidente della cooperativa Lai, lavoro anch'io di Isernia, che chiede alla regione di risolvere al più presto i problemi burocratici che di fatto frenano la riapertura. Sentiamo. Per chi frequenta i 12 centri socioeducativi del Molise, la quarantena di fatto continua. Almeno per ora centinaia di ragazzi con disabilità sono costretti a restare a casa. Le cause vanno ricercate in una determina che non solo è stata fatta in ritardo, ma che ha anche creato un cortocircuito tra ASREM e regione, ha detto Nino Santoro, presidente della Lai, lavoro anch'io di Isernia. Nella sua cooperativa si è creato un paradosso. I tre ragazzi assunti possono lavorare, mentre gli altri che frequentano il centro socioeducativo sono costretti a restare a casa. Sono agli arresti domiciliari pur non avendo commesso nessun reato. In pratica abbiamo potuto riaprire le attività solo per i ragazzi assunti in cooperativa, mentre il centro socioeducativo e tutti i centri socioeducativi della regione Molise sono ancora chiusi, oggi che è 10 giugno. Tenete presente che nelle regioni d'Italia praticamente hanno aperto tutti entro il 14-15 maggio. Dal 27 aprile le regioni si sono attrezzate. Noi purtroppo abbiamo atteso in silenzio, come è tipico delle famiglie di queste persone, abbiamo cercato di aspettare, di aspettare, ma solo il primo giugno è stata realizzata una determina che ha autorizzato queste aperture. E poi questa determina ha creato un cortocircuito, per cui adesso i centri socioeducativi che vogliono aprire devono aspettare che si risolva una diatriba tra la ASREM e la regione, altrimenti per noi è difficilissimo riaprire. La cooperativa LAI lancia un appello al neoassessore regionale, alle politiche sociali Michele Marone, affinché questa situazione venga sbloccata al più presto. A casa, dopo mesi di chiusura forzata, la situazione è diventata insostenibile. Quando tornano a casa le famiglie di queste persone trovano magari le pareti imprattate di sangue per l'autolesionismo dei propri figli, trovano gli televisori rotti, trovano le mogli chiuse dentro le camere perché vengono aggredite da questi ragazzi che con la disabilità mentale hanno avuto momenti estremamente complicati, tra cui gli effetti paradosso, insomma, capito? E l'effetto paradosso è proprio questo. Cioè, com'è possibile che tutta l'Italia ha aperto e noi siamo ancora chiusi? Questa è la domanda. La chiusura forzata, oltre a creare difficoltà alle famiglie, sta bloccando le attività agricole e artigianali della cooperativa. Ci siamo fermati con tutte le piccole e medie, e anche commesse di privati, e ci siamo dovuti fermare per forza. E quindi al posto di andare avanti stiamo andando indietro. E' urgente che venga riaperto. Abbiamo tante di quelle targhe da fare per le campagne, per le ville, per le villette, e ci siamo dovuti fermare. Quindi aspettiamo con ansia che il centro venga riaperto. E' urgente. Veniamo alla cronaca. La polizia ha scoperto a Guardia Alfiera un laboratorio per la coltivazione di marijuana che era stato realizzato in casa da un uomo di 38 anni. Sono state sequestrate, oltre alla sostanza stupefacente, anche tutte le attrezzature all'avanguardia utilizzate per realizzare le serre, attrezzature che sono state mostrate oggi in conferenza stampa a Campobasso. Un laboratorio all'avanguardia con tanto di serre montate in due piani della sua abitazione a Guardia Alfiera. E questo tutto il materiale sequestrato dalla polizia a casa di un uomo di 38 anni che vive con il padre. Aveva messo in piedi un'attività di coltivazione della marijuana che però in piena quarantena per il coronavirus non è sfuggita alla polizia. I risultati dell'operazione Dragindor sono stati presentati in conferenza stampa alla scuola di polizia di Campobasso dal questore Giancarlo Conticchio, con lui il procuratore di Larino Isabella Ginefra e il dirigente del commissariato di Termoli Maria Concetta Piccitto. Sì, è un'operazione che segue a un'attività d'indagine nata e maturata durante il lockdown. Durante il lockdown la polizia di Stato ha lavorato sotto traccia. Aveva questo laboratorio non tanto artigianale, un laboratorio che gli ha consentito di mettere in campo produzione e coltivazione di sostanza vietata dalla legge. All'interno dello stabile, oltre alle serre dotate di lampade e sistemi di ventilazione, era stato realizzato anche un programma settimanale sul quale venivano riportati gli orari e gli interventi di concimazione ed annaffiatura necessari per ogni singola serra. È stato trovato inoltre anche un numero consistente di fotografie delle piante di marijuana, sicuramente utilizzata per fare pubblicità all'attività. Durante il blitz gli agenti hanno trovato 14 vasi con piante di marijuana, numerosi contenitori con foglie essiccate, pasta di marijuana e varie attrezzature per l'essiccazione, confezionamento e pesatura. sequestrate, oltre alle attrezzature, 14 piante, 300 grammi di marijuana, 6 armi da taglio, coltelli, un pugnale, un macete e varie cartucce detenute illegalmente. Il materiale per realizzare la serra in casa è facilmente reperibile in rete. Mi lascia sempre abbastanza abbassita vedere come è facile digitare coltivazione di sostanze stupefacenti e hai quasi come se fosse un ricettario di cucina tutte le indicazioni su tutto ciò che serve. Questo crea un problema anche di difficoltà maggiore per la polizia nel riuscire a individuare, perché quelli che sono sempre stati i consueti canali e anche le consuete modalità, cioè gli appostamenti, i controlli su strada, l'osservazione, devono essere necessariamente rivisitati alla luce di nuove forme di spaccio, di attività, di produzione. L'uomo è finito agli arresti domiciliari con le accuse di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Non aveva precedenti per droga ma per detenzione illegale di armi. Dopo l'udienza di convalida si è visto applicare l'obbligo di dimora a Guardialfera. Allora andiamo a Disernia. Due extracomunitari già destinatari di un decreto di espulsione hanno importunato insistentemente alcune ragazze. In loro difesa è intervenuto un giovane isternino che è riuscito a far allontanare i due che però sono tornati sul posto e hanno aggredito il ragazzo cercando di colpirlo con una bottiglia di vetro rotta. Il giovane è riuscito ad evitare i colpi rivolgendosi ai carabinieri che hanno rintracciato i due extracomunitari. Per entrambi è scattata la denuncia. Un anno e mezzo fa una sparatoria ha petacciato perché due residenti erano stati scambiati per rapinatori da due poliziotti della mobile di Vasto. Per uno di loro la procura di Larino ha chiesto il rinvio a giudizio per uso illegittimo delle armi e l'udienza è stata fissata per il 7 dicembre del 2020. Sentiamo. La procura di Larino ha chiesto il rinvio a giudizio per uso illegittimo delle armi per un poliziotto di 46 anni in servizio alla mobile di Vasto ma residente a Petacciato che insieme a un suo collega la notte del 7 febbraio 2019 scaricò con la sua pistola una serie di colpi contro un Audi a bordo della quale c'erano due uomini di Petacciato scambiati per rapinatori. I poliziotti in Borghese con un'auto civetta né si erano identificati né avevano esposto il lampeggiante solo puntato una pistola dal finestrino che aveva indotto i due a bordo dell'Audi a scappare pensando di essere loro stessi vittime di un tentativo di rapina. Alla fuga dell'auto gli agenti avevano esploso diversi colpi l'ultimo dei quali a distanza ravvicinata sul bordo della carrozzeria mandando in frantumi il finestrino con l'altissimo rischio di colpire due innocenti. Per quel gravissimo episodio ora il procuratore capo Isabella Ginefra ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l'agente di Petacciato che aveva sparato contro l'auto mentre per il collega che aveva sparato in aria alle ruote è stata chiesta l'archiviazione a cui si sono posti i difensori dei due uomini di Petacciato, gli avvocati Diego Sabatino e Alberto Di Vito che hanno intentato una causa anche con il Ministero dell'Interno per chiedere il risarcimento danni morali e materiali per l'operato dei suoi due dipendenti. L'udienza preliminare è stata fissata al 7 dicembre intanto la vettura del malcapitato di Petacciato non è mai stata restituita. A distanza di un anno e mezzo si trova ancora sotto sequestro in una carrozzeria perché la procura di Larino ha deciso di non fare l'incidente probatorio nonostante le pressioni degli avvocati Sabatino e Di Vito che puntavano a cristallizzare la prova per ottenere la restituzione della vettura che serviva all'uomo per andare al lavoro. Purtroppo non è andata così e il proprietario della vettura si è ritrovato oltre a essere vittima di uno sconcertante equivoco anche senza la sua macchina. Il Comune di Termoli ha affidato alla Lifeguard di Pescara il servizio di salvataggio per le spiagge libere di Termoli dopo regolare gara. L'assistenza ai bagnanti sarà garantita tutti i giorni della settimana a partire dal 12 giugno e verrà quindi revocato il divieto di balneazione che aveva scatenato tante polemiche. Oggi ricorre l'anniversario del delitto Matteotti ricordato in Molise dall'Associazione Arti Cinema e Teatro di Campobasso che ha prodotto con la fondazione Molise Cultura lo spettacolo teatrale Il mio nome è Tempesta, il delitto Matteotti. La rappresentazione rinviata a causa dell'emergenza Covid è stata riprogrammata e a breve saranno comunicate le nuove date. Scritto dalla giornalista Carmen Sepede, diretto dal regista Emanuele Gamba, lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena oggi a Roma proprio in concomitanza con il 96esimo anniversario della morte di Matteotti. A giorni dunque si conosceranno le nuove date con quella del debutto al Teatro Savoia di Campobasso. Le scuole di Sernia hanno chiuso l'anno scolastico incontrandosi durante una diretta su YouTube promossa nell'ambito della Majorana Fascitelli Day. A loro e in particolare ragazze che si apprestano ad affrontare gli esami è arrivato anche un messaggio del direttore dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Sentiamo. A distanza ma tutti insieme per condividere momenti più belli vissuti in questi mesi. Così le scuole di Sernia hanno chiuso un anno scolastico particolare. Gli istituti comprensivi San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII e gli istituti superiori Fermi Mattei e Majorana Fascitelli si sono incontrati in rete su YouTube per confrontarsi e raccontare ciò che hanno fatto prima e durante l'emergenza. L'incontro è stato proposto nell'ambito del Majorana Fascitelli Day, un'edizione significativa proprio perché ha permesso agli studenti dei vari istituti del capologo di provincia di sentirsi più vicini dopo gli ultimi difficili mesi passati a casa a fare lezioni a distanza. A loro è giunto anche il saluto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini. Un abbraccio ideale a tutti i nostri studenti, a quelli che stanno per finire questa straordinaria avventura della scuola secondaria superiore. Un in bocca al lupo per gli esami di maturità sarà un'esperienza bellissima, sarà un'esperienza che ricorderete per tutta la vita e sarà bellissima anche quest'anno con le nuove modalità. È un abbraccio particolare ai più piccoli che si avviano in un percorso lunghissimo, cinque anni sono tanti, tantissimi, entrerete da ragazzini e ne uscirete da adulti. Noi così come ci siamo oggi saremo sempre accanto a voi. Ripercorrere il film dell'anno scolastico ha permesso a tutti di rivedersi e apprezzare tanti lavori realizzati sia a scuola sia online. Musica, arte, teatro, videoclip, disegni, nelle oltre due ore di diretta si è visto davvero di tutto. Ci si è resi conto che nemmeno il virus è riuscito a tenere a freno la creatività e l'entusiasmo degli studenti, tra l'altro protagonisti di incontri di grande spessore, su tutti quello con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte o ancora con il magistrato Raffaele Cantone, con il presidente merito della Corte Costituzionale Paolo Grossi, con il poeta Alessandro Fo e la scrittrice Chiara Gamberale. Mentre a chiusura di anno scolastico il dirigente del Majorana Fascitelli, Carmelina Dinezza, ha proposto un collegamento con il questore di Sernia Roberto Pellicone e il dirigente dell'ufficio volanti Pasquale Marcovecchio. Un'occasione per riflettere sui valori di cittadinanza attiva ma anche sull'importanza del rispetto delle regole e della necessità di comportarsi in maniera responsabile anche in questa fase di emergenza. E vediamo ora la rubrica le parole della medicina. Oggi il dottore Italo Marinelli ci parlerà della sindrome del burnout, un grave disturbo psicologico che colpisce gli operatori sanitari soggetti a stress emotivo e professionale. Buongiorno, oggi parleremo della sindrome del burnout. Burnout dall'inglese bruciarsi letteralmente. Che cos'è? È un disturbo psicologico che colpisce soggetti che svolgono professioni di cura alle persone, quindi medici, infermieri, ma anche insegnanti. Dovunque ci sia una relazione interpersonale. Che cosa succede a queste persone? Succede che dopo una fase iniziale di entusiasmo dialistico nella quale ci si mette al servizio, si hanno tante idee, tante speranze, tanta buona volontà, può subentrare in condizioni di stress, in condizioni di difficoltà lavorativa, una fase di stagnazione nella quale ci si rende conto che la realtà è un po' diversa dalle proprie aspettative e dai propri ideali. Poi se le cose vanno avanti subentra un senso di frustrazione perché ci si sente poco realizzati, ci si sente inutili, ci si sente insoddisfatti e alla fine come come risposta finale subentra uno stato di vera e propria apatia, spersonalizzazione, non si guarda più alla persona che abbiamo di fronte come persona ma come potenziale diciamo fonte di fastidi, noia, assenteismo lavorativo. In altri termini si va verso una sorta di morte professionale. Sono molto a rischio di burnout il personale che lavora in oncologia oppure in malattie croniche a esito in fausto. Perché? Perché il loro investimento emotivo molto forte, il loro legame con le persone di cui si occupano, li porta alla fine a uno stato di frustrazione. Le cause del burnout sono tante, sono di diversa natura, cause organizzative, super lavoro, stress, iniquità nell'ambiente di lavoro, mancanza di senso di gruppo. Ma pensiamo a quanto burnout produrrà l'epidemia da Covid. Io credo che sarà un grosso problema perché questi colleghi, tutti siamo stressati, ma quelli che sono stati in prima fila veramente hanno subito un gravissimo stress. E se pensiamo che oggi con l'epidemia che sta finendo già cominciano ad arrivare le prime denunce verso questi soggetti, io credo che il burnout per loro sarà quasi inevitabile purtroppo. Ed ora prima di concludere vi vogliamo mostrare le immagini del salvataggio di un gattino, un salvataggio molto complicato, andato a buon fine grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Termoli. Questa storia ce l'ha raccontata e inviata Paola Capone, coordinatrice della GEPA Molise. Mentre stavano eseguendo lavori di ristrutturazione alla DSB di Termoli, dal secondo piano arrivava la segnalazione di un miagolio disperato. Un gattino infatti era rimasto incastrato addirittura all'interno delle mura dell'edificio, probabilmente passando dai fori delle tubature e della corrente elettrica. Ebbene con l'intervento dei vigili del fuoco il gattino è stato salvato. Sono riusciti infatti a tirarlo fuori scavando una buca profonda nel muro della stessa abitazione. Ed ora il micetto sta bene e ha trovato anche la persona che lo adotterà. E con queste immagini si conclude anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito a tutti voi. Una cordiale buonanotte.